Materialmente la mazzetta non l'ha presa, ma il reato di concussione si è consumato anche per la sola promessa di tangente accertata da circa 1.500 euro. Così l'assessore regionale alla cultura Luigi De Fanis, 53 anni, è stato arrestato dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, che hanno perquisito gli uffici regionali di Pescara, off-limits per le telecamere, oltre alle case dei quattro indagati a Montazzo, riguardi Aglere, Basto e Sulmona. L'inchiesta è stata denominata il VATE, perché i reati contestati riguardano un evento legato al 150esimo anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio presso il Salone del Libro di Torino. Oltre a De Fanis, agli arresti domiciliari, c'è anche la sua segretaria particolare, Lucia Zingariello, 34 anni, nata a Taranto, ma residente a Guardia Grele. Per gli altri due indagati, invece, è scattato l'obbligo di dimora Rosa Gianmarco, 60 anni, di Sulmona, responsabile dell'Agenzia regionale per la promozione culturale, nelle immagini con l'assessore al Salone del Libro di Torino, e un imprenditore di Basto, Ermanno Fallone, presidente dell'Associazione Abruzzo Antico, utilizzata per la predisposizione di fatture gonfiate, e che, secondo il GIP Maria Carla Sacco, era il prestanome di De Fanis. I reati contestati sono concussione, truffa aggravata e peculato. L'indagine, coordinata dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Pescara, Federico De Siervo, e dal sostituto procuratore Giuseppe Bellelli, mira a far luce sulle modalità di erogazione dei contributi regionali, in base alla legge regionale 4373, che disciplina l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni e altre manifestazioni culturali. A denunciare il noto esponente del PDL, stimato ortopedico al San Camilo di Atessa, consigliere comunale della maggioranza che sostiene Nicola Cicchiti, già sindaco di Montazzoli per due mandati, è stato l'imprenditore Andrea Mascitti, organizzatore del Nascimbeni Awards, testimone credibile e leale, secondo il GIP, posto di fronte ad un out-out, o seguire le istruzioni dettate dal De Fanis, oppure desistere dall'organizzazione degli eventi culturali. L'episodio contestato risale a marzo, ma nel corso delle attività sono emerse inoltre ipotesi di peculato d'uso di beni e risorse della regione Abruzzo, per interessi privati, come una bottiglia di champagne comprata dall'assessore in un bar torinese e pagata con carta di credito dell'ente, come riferiscono le intercettazioni riportate nel dispositivo. Andiamo tutti in galera, diceva al telefono la dirigente della regione Rosa Gianmarco all'assessore De Fanis, ripetendo il concetto più volte. Io e te passiamo i guai, diceva invece in dialetto l'assessore e la sua segretaria, ma se stiamo uniti li freghiamo tutti. Nel corso delle indagini si scopre inoltre che l'associazione Abruzzo Antico dell'assessore ha pagato anche le camere d'albergo degli amici e che tra le hostess pagate c'è la babysitter della segretaria personale e il solito preventivo gonfiato per gli opuscoli promozionali tramite una tipografia di atessa. Il GIP definisce l'assessore De Fanis detito a strumentalizzare la propria carica a fini illeciti, predisponendo complesse strategie di procedure amministrative, denotando pertanto una pervicace abitualità delittuosa.